Palazzi storici meravigliosi, piazze come dipinti e scorci preziosi, ma anche angoli abbandonati, strutture fatiscenti e vie dimenticate. E' questo il centro di Bassano del Grappa, luci e ombre proprio lì nel cuore della città. E un nostro telespettatore, Tiziano Tasca, ci ha guidato in un vero e proprio tour della desolazione, a partire da Via Vendramini, dove angola un palazzo ormai abbandonato da anni e lungo il cui vicolo spuntano sempre più scritte vandaliche, oltre che strutture dimenticate. Siamo arrivati alla fine di Via Vendramini e questa è l'ultima casetta sulla sinistra, che sembra decorata simpaticamente da degli affreschi, non si sa se siano finti o veramente fatti da un artista famoso. In realtà? In realtà fa schifo. E se saliamo lungo Viale dei Martri per imboccare Vicolo 20 Settembre, una strada percorsa ogni giorno da tantissimi turisti in città, la situazione non sembra migliorare. Questo è un altro punto che lei racconta come dimenticato in città. Sì, questo è il Vicolo 20 Settembre, un vicolo da sempre, da decine d'anni, dimenticato e lasciato all'incuria da tutti. Infatti si possono vedere come sono messi i fabbricati. E pensare che questa è una via che porta direttamente da Viale dei Martri alla centrale e commerciale Via Jacopo da Ponte. Parlo con i residenti, non solo ci lamentano, ma dicono noi abbiamo da sempre la casa qua. Siamo stanchi di sentirci dire che abitiamo in Contrasco-Assa. Un tour nelle cosiddette zone fantasma che si conclude in una piazzetta storica, un tempo sede del mercato della città, la Corte dei Berri. Questo pezzo di storia di Bassano è ridotto così. Il fabbricato è del tutto faticente, crepe, pezzi di intonaco che casca, scritte. Ma la peggior cosa, la cosa più preoccupante per me, secondo la mia modesta opinione, è quel terrazzino lassù che ha addirittura le piante spontanee che crescono, fa la spugnosità del suo cemento che dovrebbe sostenerlo. Se sussiste il pericolo di qualcosa di crollo, che venga messo in sicurezza prima che succeda qualcosa che non va bene.